Biela ha incoronato il vincitore della 98esima edizione del Giro del Piemonte. Il colombiano Rigoberto Uran, medaglia d'argento nella prova in linea delle Olimpiadi di Londra, ha vinto la Gran Piemonte che si è disputata oggi con partenza da Fossano e arrivo a Biela, su un percorso di 188 chilometri. Decisivo è proprio stata la scalata al Favaro, un circuito di 17 chilometri che gli atleti hanno dovuto affrontare due volte. Il portacolori del team Sky ha allungato insieme a Betancourt, Sant'Ambrogio e Paolini, sulla seconda delle due scese al Favaro per poi staccare tutti nella picchiata verso Biela. Uran è giunto a Biela in solitario ed è diventato il primo colombiano a conquistare il Giro del Piemonte. Il colombiano ha preceduto Luca Paolini e lo spagnolo Gorka Verdugo, entrambi a 4 secondi.